novena allo spirito santo iniziamo sempre la preghiera invocando l'aiuto dello spirito santo vieni creator spiritus segniamoci con un segno di croce nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen vieni o spirito creatore visita le nostre menti riempi della tua grazia i cuori che hai creato o dolce consolatore dono del padre altissimo acqua viva fuoco amore santo crisma dell'anima dito della mano di dio promesso dal salvatore irradia i tuoi sette doni suscita in noi la parola si luce l'intelletto fiamma ardente nel cuore sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore difendici dal nemico reca in dono la pace la tua guida invincibile ci liberi dal male luce ed eterna sapienza svelaci il grande mistero di dio padre e del figlio uniti in un solo amore ottavo giorno e se siamo figli siamo anche eredi eredi di dio coeredi di cristo severamente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria spirito santificatore purificami da ogni macchia santificami e dammi le virtù di gesù le stesse sue intenzioni e disposizioni interiori si è in me lo stesso spirito di gesù spira all'anima mia verso gesù lo stesso amore che il padre spira al suo figlio divino e dammi la stessa attrazione che il padre sente verso il suo diletto e carissimo figlio gesù amore gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amore gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amore gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amore gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amore gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amore gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli dei secoli amore Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'incensiere d'oro vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video e vi ricorda sempre di ricordarmi nelle vostre preghiere. Io pregherò per voi. Grazie.